Direi che non ci sono dei motivi di preoccupazione specifici, certamente c'è un rischio oggettivo che non va affatto sottovalutato e che va però affrontato con determinazione e con responsabilità. Un minuto di silenzio in ricordo di Valeria Solesine e delle altre vittime degli attentati terroristici a Parigi ha aperto la riunione del Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico in Prefettura Venezia. Il vertice presieduto dal prefetto Domenico Cuttaia è servito a fare il punto sui temi legati alla sicurezza in vista dei prossimi appuntamenti veneziani, legati soprattutto alla festa della Madonna della Salute il 21 novembre e all'apertura della Porta Santa della Basilica di San Marco per il Giubileo il 13 dicembre. A Venezia, dopo gli attentati nella capitale francese, il livello di allerta delle forze dell'Ordine è il massimo. Per gli eventi di maggior richiamo in piazza San Marco e nella Basilica, spiega il prefetto, abbiamo adottato una metodologia che consente di programmare gli afflussi. Faremo in modo che gli accessi siano riservati a persone preselezionate, selezionate che abbiano anche dei segni di riconoscimento. Questo per agevolare poi l'attivazione degli altri servizi di controllo sulla piazza e liberare anche le forze dell'Ordine e renderle più funzionali alle altre esigenze di sicurezza in generale. L'altro punto centrale della nostra strategia di sicurezza riguarda l'ospitalità in città ma anche nei centri della provincia, prosegue Cuttaia. Abbiamo bisogno che i movimenti di tutti siano visibili e trasparenti. Noi abbiamo una normativa che consente anche alle forze dell'Ordine di verificare le presenze nelle strutture ricettive e dobbiamo evitare che invece ci sia l'elusione, magari fatta per fini tributari, ma che poi invece si traduce in un difetto di sicurezza. Quindi su questo saremo molto determinati e azioneremo anche le leve repressive di tipo fiscale e tributario.